lancio di rifornimenti in arrivo attenzione previsto ulteriore collasso trasferitevi nella zona sicura attenzione previsto attenzione previsto attenzione previsto attenzione previsto aggiornamento collasso del cerchio imminente portarsi al sicuro attenzione Grazie a tutti. Il rilancio di rifornimenti in avvicinamento. Attenzione! Rilevata instabilità critica. Evacuazione nella zona sicura in corso. Grazie a tutti. Collasso del cerchio imminente. Portarsi al sicuro. Grazie a tutti. 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 Abbiamo finito o no? Tutti gli obiettivi completati. Riposo.